Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Mi avete detto? Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite Benedetta Castelli, cantautrice, e a questo punto, prima cosa, la prima domanda per chi ci ascolta e non conosce, noi artisticamente ti conosciamo, ma per chi non ti conosce, come descriveresti Benedetta, ma soprattutto se dovessi inserirla in un testo di una canzone, come la metteresti e come la inseriresti? Allora, intanto ciao a tutti e ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a te, grazie mille per l'ospitalità. Io appunto sono Castelli Benedetta e chi sono? Sono una ragazza un po' multitasking, nel senso che faccio diverse cose, al di là del mio percorso di studi mi sono laureata in biologia marina e quindi ho questa passione in particolare per gli squali, sul quale avrei voluto fare ricerca. Oltre a questo però sono anche una pittrice, una tatuatrice, una scrittrice e una musicista barra cantante, insomma mettiamola così, pubblicato un paio di romanzi, uno nel 2016 con il titolo Questa vita pane o nella mia e uno invece di recente nel 2022 che è Che casino noi donne. Mentre invece per quanto riguarda il discorso della musica ho iniziato ad approcciarmi a questo mondo quando avevo sei anni attraverso lo studio del pianoforte, della chitarra e della batteria e solo verso i 17 poi ho iniziato a studiare il canto, proprio ho scoperto essere il mio canale musicale per così dire preferito, che mi piace molto di più rispetto agli altri proprio per comunicare insomma i miei pensieri, i miei sentimenti con le altre persone fondamentalmente. Una canzone che può rispecchiare Castelli Benedetta la vedo un po', cioè una singola la vedo molto molto difficile, nel senso che ci sono tantissime canzoni che insomma potrebbero rispecchiarmi. Così su due piedi potrei dire qualcosa tipo magari anche di Vasco, però sarebbe molto riduttivo perché comunque ci sono veramente tanti pezzi sia italiani che stranieri che sono bellissimi e che ho sempre un po' fatto miei in vari momenti della vita, quindi non saprei dire proprio una canzone singola onestamente. E a questo punto parliamo dell'ultimo brano, nonostante me, come nasce questo brano, la cosa tra ispirazioni, come è cresciuto poi alla fine per arrivare a questo risultato? Sì, allora, nonostante me è un brano diciamo pop, ma comunque con una buona carica di energia e voleva essere appositamente così e nasce proprio dall'idea di essere un brano comunque un po' intimo per cercare anche di aiutare comunque le altre persone. Questo perché ognuno di noi ha comunque un suo passato che può essere stato magari meno roseo rispetto al presente perché comunque la vita è piena di ostacoli fondamentalmente e quindi questo testo vuole un po' abbracciare tutti gli ascoltatori e fargli capire che non sono soli, che i momenti brutti, i momenti tristi insomma capitano a tutti, ma che anche se queste situazioni comunque negative ci lasciano in qualche modo un segno, anche se spesso volentieri è indelebile, dobbiamo cercare di trovare comunque la forza di trasformare queste cose negative in energia positiva per superare questi ostacoli e per mettere un po' da parte anche la paura, la paura del fallimento, del perdere perché nella vita in me non si può sempre vincere, bisogna anche mettere da parte le sconfitte, farne comunque tesoro e soprattutto rialzarsi sempre perché credo che in ognuno di noi si nasconda un po' un guerriero che in qualche modo trova sempre la forza d'animo per rialzarsi e per combattere per i propri obiettivi, per i propri scopi fondamentalmente. Quindi il messaggio è proprio quello anche di cercare di amarsi di più, anche se magari gli altri non ci amano abbastanza e di perseverare e continuare a lottare sempre per i nostri obiettivi perché sono sicura che alla fine ognuno di noi può arrivare dove vuole. Basta soltanto mettersi di impegno nonostante noi stessi, nonostante gli altri e nonostante tutto. E la realizzazione dei brani? Come nascono prima le parole, nasce prima un testo, nasce prima un beat o riff che poi genera alla fine la stessa canzone oppure nascono insieme? Allora ovviamente ogni artista fa un po' a sé, nel senso che ci sono persone per i quali nasce prima la musica, altre il testo eccetera. Nel mio caso specifico invece prima viene sempre il testo. C'è il testo, poi arriva la linea melodica e poi dal testo e la linea melodica viene costruito l'arrangiamento fondamentalmente, quindi la parte musicale vera e propria arriva sempre alla fine. Nella realizzazione dei testi è più facile fare discorsi lunghi oppure come nell'inglese essere un po' più sintetico con forse un po' più grezzo ma cercare più essere più efficaci possibili oppure è necessario descrivere tutto in modo che ti ascolta e forse non ha dubbi. E allora in realtà l'ideale sarebbe proprio essere più incisi possibili e lanciare un messaggio senza essere troppo prolissi. Spesso non è così semplice perché magari uno vorrebbe descrivere al cento per cento nei minimi dettagli quello che pensa e quello che prova, però può essere un po' controproducente soprattutto all'interno di un testo di una canzone perché se ci pensiamo una canzone rimane comunque anche in testa quando è piuttosto facile, veloce e anche il testo non è troppo corposo, altrimenti è di impatto più difficoltoso e quindi bisogna cercare di fare un po' e un po' come si suol dire. E invece che differenza passa, il tuo detto che senti, si dice, che differenza passa poi passare da un libro dove effettivamente le parole sono tante che per descrivere una situazione, un evento, hai necessità di descriverlo perché chiaramente chi legge poi immagina, passare da quello a sintetizzare in un testo di una canzone ciò che in un libro scrivesti in dieci pagine. Sì, non è un'operazione semplice perché, esatto come ho detto anche un po' comunque prima, quando si scrive una canzone bisogna essere molto brevi e coincisi, quindi da una storia lunghissima, uno in pochissime righe deve descrivere una storia o una situazione e non è molto facile perché io sono una persona invece un po' più prolissa, soprattutto nei romanzi mi piace, esatto, descrivere comunque nei minimi dettagli determinate situazioni, anche quello che provano i personaggi durante la storia, alcune scene eccetera, quindi non è semplicissimo, però chiaramente se in un romanzo ci sono evidentemente dei personaggi, delle azioni, delle situazioni che vanno narrate, in una canzone invece già di per sé questo viene un po' a mancare, nel senso che la canzone deve essere magari sì settata su una cosa che è successa evidentemente a me, ma deve essere fruibile a tutti e quindi il più denudata diciamo possibile rispetto a situazioni troppo particolari o troppo singolari, in questo caso tutti si devono poter immedesimare senza troppi fronzoli e il passaggio non è semplicissimo. Che cosa cambia? Tu hai fatto le presentazioni libri, chiaramente hai incontrato la gente, ma invece avere del pubblico che ti ascolta, le tue canzoni, che poi in realtà davanti c'è delle persone che inizialmente poi sono in silenzio, poi si incominciano a emozionare o comunque a essere felici o tristi perché in fondo la musica rallegra o trista, però c'hanno quell'emozione, quella sensazione, che sensazione provi nel vedere queste reazioni e soprattutto quell'energia che loro ti mandano e tu rimandi a loro? Sì, è una sensazione molto bella perché è esatto, con il libro è differente, alla fine uno fa una presentazione ma poi magari deve aspettare dei mesi prima che queste persone legano il libro, poi le incontri oppure ti chiamano, ti scrivono, ti dicono mi è piaciuto, non mi è piaciuto eccetera. Invece quando una persona canta una canzone e gli altri la ascoltano è una cosa molto più immediata e quindi anche in questo contesto c'è sicuramente come hai detto tu una carica di energia fortissima perché in quel momento quando presenti la canzone è questa scarica proprio di adrenalina che vuoi comunque condividere tantissimo con le altre persone questo tuo lavoro al quale ovviamente tu tieni tantissimo, da una parte speri che possa piacere e dall'altra parte comunque devi sempre essere pronto anche a un pubblico che magari potrebbe non accettarlo perché non si può piacere ovviamente a tutti e quindi magari potrebbe esserci qualcuno che invece dirti no a me insomma non è piaciuta per niente questa canzone eccetera. Quindi bisogna essere pronti sia nel bene che nel male però è sempre un'emozione fortissima soprattutto esatto condividere con le altre persone queste emozioni nel senso che la cosa più riuscita soprattutto è quando magari io sono emozionata su un palco magari a cantare una mia canzone e dall'altra parte vedo un pubblico che come hai detto tu evidentemente inizialmente non conoscendo la canzone magari è un po in silenzio però poi magari si lascia andare un po' con le emozioni di quel coinvolgimento di quella canzone specifica e particolare e quindi lì c'è proprio questa fortissima condivisione con il pubblico che credo sia il momento più bello della condivisione di una canzone a livello musicale. Invece poi le domande che ti fanno quando tu le incontri poi ce n'è e ti fanno quali le domande che ti mettono in realtà dei bambini o dei ragazzi più giovani oppure quelle persone un po' più attembate che ti diano oltre a livello tecnico informazioni così ma ti fanno domande che riguardano un po' l'emozione, la sensazione oppure così che ti lasciano sorprese e ti fanno piacere e quando poi dà la risposta ti accorgi che hai reso offendicente e chiede ascoltato. Sì beh credo che dipenda molto dai casi nel senso che spesso e volentieri ci sono magari esatto delle domande molto spontanee sicuramente dai bambini dai ragazzini più giovani arrivano delle reazioni anche molto più spontanee tra virgolette meno studiate e quindi sono proprio reazioni così come si suol dire a caldo nel quale magari loro ti dicono eh so magari questa canzone mi è piaciuta e perché l'hai scritta in quale momento della tua vita l'hai scritto per quale motivazione cosa ti è successo quindi magari cercano di entrare un po' più nell'aspetto intimo della benedetta cantante per cercare un po' di scavare più a fondo e quindi questa è una bella cosa perché è sincera dall'altra parte ovvio che è più difficoltoso comunque perché già quando si condivide qualcosa con le altre persone non è semplice perché comunque come dico sempre io sia scrivere un romanzo sia scrivere una canzone comunque mettersi a nudo davanti alle persone quindi non è facile ci vuole anche tra virgolette del coraggio quindi già questa situazione qua non è particolarmente semplice quindi a maggior ragione se troviamo anche delle persone davanti che ci chiedono ancora di più nei minimi dettagli a cosa si può riferire con la determinata situazione è ancora una cosa più delicata e quindi non è sempre facilissimo gli adulti invece più spesso e volentieri magari vanno su domande più tecnico pratiche quindi esatto magari come dicevamo prima è arrivato prima il testo oppure è arrivato prima l'arrangiamento con chi insomma hai fatto questo arrangiamento piuttosto che tutta una serie di cose che sicuramente sono sempre assolutamente opportune sui quali discutere perché bisogna sempre prendere le critiche parlarne con le persone soprattutto per migliorarsi però certamente sono di un'altra di un'altra fattura è comunque una questione completamente differente e a questo punto io ti chiederei intanto nella tua parliamo di Sanremo Giovani parliamo di Eurovision parliamo cioè tante manifestazioni che ti hanno permesso di farti conoscere al pubblico cosa ricordi di queste manifestazioni ma soprattutto qual è l'emozione che ti porti dietro di tutte le manifestazioni che hai fatto da adesso e poi ci saranno tantissime altre sì allora sicuramente la cosa più bella di tutte queste manifestazioni è la condivisione con gli altri artisti gli altri ragazzi nel momento insomma dell'attesa del potersi esibire chiacchierare condividere comunque le proprie esperienze musicali lasciarsi anche dei feedback far nascere delle amicizie perché comunque in tutti questi contesti qui nasce sempre magari anche qualche collaborazione anche ogni tanto quindi questo è sicuramente una cosa bellissima anche comunque confrontarsi con dei grandi nomi della musica perché in ogni caso in giuria quando uno insomma si esibisce ci sono dei nomi molto autorevoli di persone che prima di me prima di noi altri artisti emergenti hanno fatto la storia della musica e quindi c'è sempre quella magari tensione di dire cavolo sono comunque al cospetto diciamo di una persona comunque molto autorevole che ne sa molto molto più di me e quindi è una bellissima anche sensazione per potersi mettere in gioco e per avere anche dei consigli da parte di queste persone che fondamentalmente per me sono degli esperti e proprio mungere il più possibile per avere quanti più riferimenti e quanti più commenti possibili proprio per migliorarmi perché per me è una delle cose ovviamente principali come tutti gli artisti ovviamente non si può rimanere sempre sulla stessa fascia altrimenti non si andrà mai avanti e credo che però di tutte le esperienze dei contest di cui abbiamo parlato poc'anzi l'esperienza per me più bella è stata quella di aria sanremo ma semplicemente perché avevo portato questo brano che si intitola il mio sole che era un brano che era stato scritto precedentemente da mio zio che era un cantautore al quale insomma io tenevo moltissimo e lui non aveva scritto proprio il testo ha scritto questa storia io da questa storia avevo poi fatto diventare il testo una canzone ho fatto l'arrangiamento e quindi quella è stata penso un'emozione grandissima perché era la prima volta che portavo davanti a un pubblico questa canzone al quale tenevo proprio per il discorso di mio zio e lì se i sentimenti e le emozioni sono stati forse ancora più forti di tante altre condizioni e situazioni e poi ricordiamo che nel video hai preso le immagini di un di un anime giapponese sì hai tratto le le anime giapponesi che è your name esatto e invece qual è il consiglio che ti hanno dato che ti ha fatto adesso o comunque immediatamente ha capito che ti permetteva di crescere anche artisticamente di tutte quelle persone che hai incontrato ma allora sicuramente il forse il consiglio più importante diciamo perché vabbè poi i consigli sono sempre tanti e in contesti diversi ne arrivano sempre di differenti però quello più importante è proprio quello di cercare di su un palco comunque io parlo proprio di un discorso di resa scenica non tanto dietro le quinte perché dietro le quinte insomma con tutti i lavori che si fanno di registrazione e tutto quanto il resto è sempre un po più semplice però proprio a livello dell'esibizione di per sé credo che il consiglio migliore sia stato quello di non tra virgolette strafare ma dare comunque il cento per cento rimanendo la persona che sono quindi senza dover dare a vedere cose o situazioni che non sono proprie mie ma di rimanere semplicemente me stessa cantare nella mia timbrica nella mia tonalità ed esprimermi anche a livello proprio non solo verbale ma anche gestuale per quella che sono per cercare di coinvolgere il più possibile comunque anche lo spettatore perché ricordiamoci che anche insomma la presenza scenica sul palco alla fine è molto importante perché uno può cantare benissimo però essere magari uno stoccafisso e non riuscire a coinvolgere al cento per cento comunque la persona che gli sta davanti quindi sono due cose che vanno di pari passo ed era una cosa che inizialmente io avevo proprio in mente perché per me era vado a cantare su un palco canto bene fine e invece no ci vogliono entrambe le cose e questo quindi è stato un consiglio che per me è risultato veramente molto utile e poi ci dato delle collaborazioni qual è quella collaborazione che ti ha emozionato finora e quale ti piacerebbe che ci fosse in futuro una collaborazione che effettivamente sarebbe nel tuo cassetto ipotetico allora eh beh di tutte le collaborazioni tra virgolette insomma che che ho portato un po' avanti con persone che ho conosciuto eccetera sicuramente la collaborazione che per me è più importante è quella che è e che rimane comunque con il mio insegnante di canto semplicemente perché al di là che è tantissimi anni insomma che che prendo lezioni da lui e sto continuando ma comunque sempre grazie a lui sono nati tanti bei pezzi eh che lui comunque mi ha aiutato a sviluppare nella maniera possibile più più bella sostanzialmente poi ci sono state anche delle altre collaborazioni con ragazze appunto che ho conosciuto dei concorsi eh che però sono state collaborazioni magari mh nel quale non siamo riusciti ad approdare poi a un progetto effettivamente definitivo eh di un singolo ma magari abbiamo fatto dei rifaccimenti di cover e questo genere di cose che comunque sono state molto belle ed emozionanti eh però se dovessi pensare a un progetto futuro con un artista eh insomma di una grande portata se dobbiamo metterla così insomma più grande più grande di me eh gli artisti con il quale mi piacerebbe collaborare sono sicuramente moltissimi ehm a me piacciono molto gli artisti della vecchia guardia o comunque magari un po' più tra virgolette di nicchia quindi non disdegnerei per nulla fare magari un una canzone con una Carmen Consoli che io amo tantissimo perché per me fa sempre dei test delle canzoni con delle tematiche veramente eh molto molto attuali e quindi magari potrebbe essere lei o non so Gianni Morandi perché mi fa morire perché ha sempre fatto delle canzoni fantastiche nonostante comunque sia un artista della vecchia guardia tra virgolette però eh secondo me ancora tanto tanto da offrire quindi chi lo sa mai dire mai e se dovessimo aprire il cassetto di questa scrivania dove ci sono tutti i tuoi desideri oggi qual è il desiderio più più imminente perché poi nel tempo ci saranno tanti altri sogni tanti obiettivi da raggiungere adesso qual è l'obiettivo imminente o che pensi di raggiungere subito? Oddio che penso di penso di raggiungere subito non lo so sicuramente eh ora che insomma è uscito nonostante me che è il terzo singolo eh che esce dopo un paio d'anni in generale con come collaborazione con questa etichetta discografica spero di poter fare un altro paio di singoli di modo da unirli tutti insieme in un in un EP e poi eventualmente fare anche una bonus track una stessa traccia da inserire in più questa è la cosa magari più imminente tra virgolette e che mi piacerebbe comunque fare nel senso che vorrei comunque continuare su questo percorso musicale e poi nel futuro più prossimo beh insomma i sogni sono tanti esatto e quindi chi lo sa io ho sempre il sogno Sanremese e quindi spero che prima o poi un giorno si avvererà chi lo sa e poi vediamo la copertina del singolo chiaramente che eh ti sei te con un fondo rosa eh semplice una una copertina che rispetta la tua immagine eh come sei? sì esatto vabbè fondamentalmente come dicevamo anche prima sono una persona comunque così come mi vedete senza troppi tra virgolette fronzoli o cose particolari neanche la copertina dell'album voleva rispecchiare comunque questa cosa anche perché comunque ehm come dicevo prima io mh voglio semplicemente essere me stessa anche nel campo artistico non voglio eh modificare chi sono in base a se sono Castelbenetta cantante oppure scrittrice oppure pittrice cioè semplicemente sono così e mi piace che anche l'immagine che possa uscire di me sia questa fondamentalmente. E a questo punto io ti faccio la domanda eh come nasce visto che l'ultimo libro è da poco comunque uscito eh quando nasce questo libro soprattutto eh eh un po' sul lato femminile della dell'immagine eh da cosa tra ispirazione ma forse un pochettino nel titolo è anche scritto l'espirazione. E sì allora questo libro in realtà mh è nato con l'idea di portare un po' alla luce le tematiche appunto delle donne in generale nel senso che da una parte il rapporto un po' più ironico comico delle donne con tutte le cose che le circondano quindi quegli ipotetici partner piuttosto che col parrocchiere l'estetista lo shopping la casa la macchina tutto questo genere di cose e questa è la parte più comica e un po' ironica per cercare anche di strappare qualche risata al lettore. Dall'altra parte però volevo comunque portare anche alla riflessione il lettore eh sulla tematica della donna che spesso volentieri viene ricordata l'otto di marzo perché è la sua festa eh poi però in tanti ambiti e contesti ancora purtroppo non viene presa in considerazione come dovrebbe perché abbiamo situazioni di donne che magari eh non vengono prese in considerazione per una posizione lavorativa perché non sono abbastanza giovani o non sono abbastanza belle oppure ancora gli viene chiesto di scegliere tra la carriera eh e la famiglia donne che vengono ancora viste tipicamente come pur oggetto sessuale oppure come casalinghe e quindi l'intento era proprio quello di portare il lettore alla riflessione però allo stesso tempo senza risultare troppo pedante e pesante ma cercare di far fare un pochè due risate comunque a chi leggeva e l'idea è nata proprio sei anni fa al termine della promozione del primo romanzo che scrissi e niente quindi sono partita con questa avventura un po' a più riprese perché nel mio tempo ci vuole sempre un po' per per scrivere quel romanzo insomma è abbastanza lungo e ci vuole del tempo anche per questo vediamo appunto dietro di te tante scritte però non c'è non ci sarà mai un cuore perché noi una parte l'abbiamo tagliata però non ci sarà mai un cuore ma forse la frase non è completa in questo caso sì allora sicuramente non è detto che non ci sia mai un cuore sicuramente questo momento sì potrebbe essere a metà tagliato però chi lo sa come si suol dire prima o poi potrebbe capitare a tutti e fondamentalmente l'altra metà per così dire della mela potrebbe esserci chissà dove magari nel mio caso come dico sempre io su un altro pianeta però chi lo sa noi non cerchiamo il principio azzurro si dice perché in fondo va in giro con un cavallo vecchio per cavallo bianco un gronzino quindi io farei la domanda un pochino anche all'artista pittrice come quando nasce l'idea di fare anche la pittrice perché poi tutto e poi soprattutto a questo punto perché non dipingere una copertina una copertina del libro del della musica dici di musica allora partendo dalla prima domanda e fondamentalmente diciamo che sono tutte passioni abbastanza intrinseche nel senso che sono un po anche di famiglia comunque come anticipavo prima la musica arriva per esempio da mio zio piuttosto che invece la pittura arriva da uno zio di mia mamma che lui era un teatrante un attore un pittore insomma è un po un retaggio familiare sicuramente quindi credo che l'arte sia parte un po in generale della mia famiglia dall'altra parte comunque sono sempre passioni che appunto porto avanti da quando sono molto piccola quindi quando era andavo a scuola già alle elementari e il momento del disegno era la parte una delle parti che preferivo perché mi lasciavano libero sfogo alla creatività potevo esprimermi tra virgolette al cento per cento con i disegni colori eccetera e anche il momento del tema quando facevamo appunto scrivevamo questi testi questi temi durante le ore di italiano erano le parti che più preferivo perché anche in questo caso potevo sfogarmi e scrivere un po tutto quello che pensavo e mi frullava per la testa quindi sono tutte cose che sia la musica che la scrittura che la pittura che arrivano da quando sono piccola e sono rimaste un retaggio che poi sto portando tra virgolette avanti nel tempo fino ad arrivare ad oggi per esempio quella pittura è passata anche per il discorso dei tatuaggi perché comunque adesso per esempio la maggior parte dei disegni che faccio sono proprio improntati poi su tatuaggi quindi non più una tela diciamo che può essere carta o piuttosto che muri perché conto anche sui muri ho spesso dipinto eccetera ma diventano delle tele umane per così dire e mi piacerebbe sicuramente realizzare anche una copertina sì di un mio singolo fino ad oggi diciamo che non è stato fatto per semplice motivo che chi si occupa della parte del videoclip barra foto insomma del delle canzoni ha sempre prediletto delle cose un po più d'impatto tra virgolette ma semplici e quindi una foto molto semplicemente della sottoscritta con un abbigliamento che fosse intrinseco all'interno del videoclip come richiamo e basta però questo non esclude che magari un domani potrei anche disegnare una copertina sì di un mio singolo musicale perché no nonostante me c'è il videoclip oppure in lavorazione allora il videoclip c'è già però non è ancora uscito se tutto va bene secondo insomma chi decide e stabilisce queste uscite perché mi occupo solo della parte musicale e poi delle parti promozionali non non me ne occupo dovrebbe uscire penso ad aprile o a maggio spero e poi di scrivere puoi raccontare qualche momento particolare nella realizzazione che ti ricordi che ti ha fatto sorridere che ti ha fatto emozionare in quel momento nella realizzazione nella realizzazione del video dici o anche del brano vabbè allora durante la realizzazione del brano in realtà qualcosa per sorridere no è stato un lavoro proprio molto molto concentrato e lì no però durante il videoclip sicuramente è stato abbastanza comico soprattutto per me perché non sono abituata e avevo il truccatore insomma che stava lì un'ora a truccarmi io che non ne potevo più e dicevamo basta ma non possiamo fare una cosa no no perché in video poi dopo si suda le luci bisogna nascondere quindi vabbè quella è stata una comica dietro l'altra perché c'ero io che non ne potevo più e questo ragazzo questa ragazza vabbè però poveri gentilissimi che insomma mi stavano dietro come una pazza e quello è stato un momento molto divertente è stato comunque anche divertente mettersi in gioco in realtà con il video maker stesso che già conoscevo perché siamo comunque anche con lui alla terza collaborazione che ogni tanto mi prende in giro perché sono molto seria quando faccio queste cose e allora cerca sempre di lanciarmi qualche battuta per farmi sorridere in sostanza a questo punto noi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento per i prossimi brani tu sono io ancora una volta che vi ringrazio tantissimo per la disponibilità e non la potete trovare il mio brano allora sia su spotify ovviamente come nonostante me castelli benedetta piuttosto che itunes amazon music dove lo potete anche eventualmente acquistare e come anticipato invece se avrete voglia di vedere il videoclip in aprile o in maggio ancora non so bene dovrebbe uscire però se avete voglia potete iscrivervi al mio canale youtube che è appunto castelli benedetta e così potete rimanere aggiornati e non appena uscirà vi verrà la notifichina così potrete visionarlo se ne avrete voglia ciao a tutti e grazie mille ancora buona giornata studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro mi avete detto ciao a tutti